Il 29 e 30 ottobre, presso la Sala dei Cinquecento dell'Ingotto Fiere di Torino, si è tenuto il convegno regionale sul tema della formazione continua in medicina e sulle sue prospettive organizzative. Il titolo, Promuovere e sviluppare comunità di pratica e di apprendimento nelle organizzazioni sanitarie, nuove prospettive per la formazione continua in sanità, riassume nelle sue linee essenziali lo spirito delle due giornate di riflessione. La comunità di pratica è un sistema di alleanze e di confronto tra operatori sanitari, con l'obiettivo di migliorare la qualità assistenziale e la relazione terapeutica e, nel contempo, di ridurre le possibilità di errore. L'evento congressuale è nato dalla sinergia tra Assessorato alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte, ASD Torino 3 e ASD di Biella. A due anni dall'avvio del sistema regionale per la formazione in sanità e del relativo sistema di accreditamento ECM, si è fatto al punto sui risultati ottenuti e sulle prospettive future. Di seguito le nostre interviste a Eleonora Artesio, Assessore regionale alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte, a Vittorio De Micheli, Direttore generale dell'Assessorato alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte, ad Amedeo Bianco, Presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, FNOMCEO e Vicepresidente della Commissione Nazionale ECM, ad Oscar Bertetto, Direttore generale dell'Ares, a Mario Neirotti, Medico di Medicina Generale e Vicepresidente della Conferenza regionale per la formazione continua in sanità a Torino, a Guido Giustetto, Medico di Medicina Generale e Vicepresidente della Commissione regionale ECM a Torino. Siamo con Eleonora Artesio, Assessore regionale alla sanità della Regione Piemonte e con Vittorio De Micheli, Direttore generale dell'Assessorato. Allora, cominciamo dall'Assessore. I gruppi di cure primarie che sono partiti, intanto come funzionano? Stanno funzionando bene? Si incrementano? Stanno rivelandosi strategici come si era ipotizzato? Beh, intanto siamo all'avvio di questa sperimentazione che ne prevede uno per ogni distretto. Le situazioni più strutturate, intorno a un 25 situazioni, avevano già precorso i tempi della delibera e avviato i loro modelli organizzativi. Per quello che riusciamo a rilevare, nelle situazioni più strutturate, i risultati sono evidenti anche per i pazienti, non solo perché l'accessibilità degli studi e dei singoli medici è aumentata, ma soprattutto perché è possibile nell'organizzazione di gruppo avere una consapevole attività di medicina di iniziativa, vale a dire tutta quell'attività che in particolare nelle patologie croniche consente la chiamata dei pazienti, il loro monitoraggio, la sorveglianza nel tempo. Quindi un ruolo assegnato ai medici di medicina generale anche di prevenzione primaria e secondaria, fondamentalmente secondaria se parliamo di popolazioni esposte a rischio, che credo sia il futuro della capacità di gestire i problemi delle malattie croniche. Da questo punto di vista, quindi nonostante la fatica della relazione con i professionisti, della relazione con le organizzazioni sindacali a trovare una soluzione che fosse condivisa, gli obiettivi mi sembrano ormai socialmente evidenti e misurabili. Senta, per i soliti dieci lettori frequentatori del portale Distratti, tanto per usare una metafora manzoniana, in due frasi, esattamente cosa sono questi gruppi di cure primarie? Sono un pacchetto di offerta di servizi sanitari, ma... I gruppi di cure primarie si fondano sulla medicina di gruppo dei medici di medicina generale, sono costituiti come minimo da un modulo di tre medici di medicina generale e un pediatra di libera scelta, che condividendo una sede comune, ma anche la comune organizzazione delle notizie sui propri pazienti, attivano nel loro ambulatorio medico momenti di apertura e di attività maggiori di quelli dello studio del medico di medicina generale singolo. L'interessante è poi che si aprono alla relazione col distretto, sia in direzione di accogliere altre attività sanitarie distrettuali, anche parti di visite specialistiche messe a disposizione dal distretto sanitario, ma si aprono anche verso la parte sociale. Molto spesso, specialmente gli anziani, specialmente i cronici, nel loro percorso hanno bisogno non solo di una buona cura, ma di essere avviati a ottenere tutte quelle prestazioni amministrative. pensiamo semplicemente agli ausili protesici che richiedono invece un intervento della competenza sociale, quindi anche un momento di unificazione dei servizi sociali del territorio, che su programma possono essere presenti nello studio dei medici. Senta, da un punto di vista di formazione, visto che qui all'ingotto questa mattina si parla proprio del modello di formazione di educazione continua in medicina messo a punto dalla Regione Piemonte. Ecco, questi nuovi gruppi di cure primarie, quali aspetti innovativi possono dare nell'offerta formativa in ambito medico-sanitario che la Regione Piemonte ha messo a punto? Innanzitutto io utilizzerei una delle dichiarazioni fatte in apertura quando si diceva che lavorare in una condizione comune e collettiva di gruppo riesce per ciascuno a potenziare le capacità individuali e anche a correggere gli errori, perché la dimensione dello scambio e del confronto favorisce. Dall'altro lato direi che questo aspetto nuovo che abbiamo introdotto della prevenzione in capo ai medici di medicina generale è sicuramente uno degli impulsi più forti a aumentare il patrimonio di conoscenze, anche soltanto il fatto di organizzare la raccolta dei dati e delle informazioni sui pazienti, scambiarla con i servizi specialistici e con i servizi ospedalieri. Costruire una comunicazione in rete di questi stessi dati è già un modello organizzativo nuovo, più avanzato dell'esercizio individuale della professione, e quindi un impegno anche di formazione dei professionisti. Bene, molto bene. Dottor De Micheli, allora, piano influenza, come sta andando? È tutto a posto? Aspettiamo questa batosta che arriva, non arriva, forse arriva, arriverà. Beh, oggi la situazione è questa, l'attività influenzale è su livelli appena superiori alla soglia di attenzione, siamo intorno al 3-4 casi per mille settimane, ma questo valore medio in effetti è la risultante di valori significativi già nei bambini e invece di valori quasi insignificanti nella popolazione adulta. Quindi effettivamente una novità c'è ed è un piccolo picco epidemico in corso in una stagione dove normalmente non la vedevamo, quindi un picco precoce. Le previsioni sono comunque che questo picco non dovrebbe raggiungere un'entità tale da mettere in crisi il sistema dei servizi. In ogni caso, lei cosa ha predisposto per evitare questo rischio? Beh, la strategia della regione si basa innanzitutto sulla comunicazione. In questo momento stiamo interessando quasi tutte le articolazioni del nostro sistema ad attività di formazione perché medici, professionisti della salute sappiano cosa dire alle persone. Sono persuaso che una parola di medico vale più di 100 telegiornali e quindi in questo momento è importante che se dobbiamo, come è giusto in questo momento, rassicurare le persone questa rassicurazione venga data in modo coerente da tutti noi. La seconda arma di contrasto che abbiamo messo in atto è la sorveglianza. I nostri medici sentinella quest'anno hanno lavorato anche d'estate non sono andati in vacanze per questo che abbiamo i numeri precisi e la terza potente azione di salvaguardia è il potenziamento dell'attività territoriale. Abbiamo creato un sistema di contrattabilità di tutti i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta che scatterà quando il livello dell'epidemia raggiungerà livelli di attenzione perché quando Topo Gigio dice a tutti quanti chiamate il vostro medico il medico si faccia trovare telefonicamente. La domanda che lui ha fatto vuole essere insomma anche se in sedicesimo un tentativo di ribaltare i luoghi comuni che circolano intorno a qualsiasi tipo di progetto venga messo in campo in ambito pubblico la formazione non sfugge purtroppo a questo cioè sembra che nell'ambito della formazione ci siano parole d'ordine un po' di retorica eccetera eccetera allora il convegno in cui io le sto facendo questa domanda si intitola promuovere e sviluppare comunità di pratica e di apprendimento nelle organizzazioni sanitarie nuove prospettive per la formazione continua in sanità allora lei ha già detto che la formazione e l'informazione sono due fattori strategici per combattere questa epidemia ecco da un punto di vista pratico dal punto di vista di formazione cosa si sta facendo e cosa può insegnare questa epidemia che sta per arrivare o forse non arriverà come si teme nell'intensità con cui si teme l'idea di fondo è come dicevo appunto a sfruttare molto la comunicazione interna quindi quello che dicono quello che pensano quello che trasmettono ai propri pazienti i medici e gli altri professionisti le cose che in pratica si stanno facendo sono due uno stiamo utilizzando i giovani medici dei corsi di formazione in medicina generale per creare i call center che risponderanno al pubblico per dare le informazioni sul virus proprio sono già stati istituiti non sono ancora attivi ma sono stati già istituiti questa settimana c'è la formazione di questi medici che sanno ovviamente tutto di virus ma che invece devono essere un po' allenati alla comunicazione con il pubblico saranno anche pagati questa è una novità assolutamente pagati come le attività di continuità assistenziale quindi non molto ma saranno pagati un segnale di controtendenza indubbiamente assolutamente e poi invece l'altra cosa che dicevo abbiamo preparato un set proprio un pacchetto di formazione che ricopre tutti gli aspetti principali il virus il vaccino l'epidemiologia la cura gli antivirali queste diapositive sono state messe a disposizione dei direttori sanitari dell'AS è stato dato il compito di creare eventi di formazione un po' in tutti gli angoli del sistema l'ARES ha accorciato brutalmente i tempi per l'accreditamento quindi in pochi giorni si riesce a accreditare l'evento e quindi in questo momento ci sono centinaia di iniziative di formazione che interessano un po' a 360 gradi del sistema quindi potremmo dire che la formazione da un punto di vista di offerta appunto messa appunto dalla regione interferisce ma in maniera molto positiva con l'attività sanitaria quotidiana qualificandola e migliorandola in un certo senso ma proprio sul campo cammin facendo assolutamente questa volta diciamo se uno legge il piano per le emergenze infettive vede la formazione come uno degli strumenti accanto alla sorveglianza e accanto alla vaccinazione quindi come uno strumento pratico grazie buon lavoro ringrazio Medio Bianco presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici nonché presidente dell'ordine dei medici chirurghi d'antoiatri della provincia di Torino senta da un punto di vista diciamo così di articolazioni di saperi la federazione in un convegno come quello di oggi sulla formazione quali contenuti può portare e quale richieste anche volendo ma nell'intervento che ha assegnato insieme all'autorità l'apertura di questo interessante convegno di due giorni su un aspetto veramente innovativo del nuovo modello ECM ECM diciamo che ho sottolineato più che altro il ruolo storico che la federazione nazionale degli ordini e gli ordini insieme a dalle altre professioni hanno avuto nel disegnare il sistema nel suo complesso questo mi ha dato l'opportunità ovviamente di riallocare questa esperienza e questo modello nella cornice più generale di obiettivi che il nuovo sistema si pone io ovviamente ho ricordato quelli più di carattere diciamo così formale ma non per questo non importanti cioè una buona cooperazione tra un modello formativo nazionale ed i modelli formativi regionali ho ricordato l'aspetto significativo innovativo vuoi dell'accreditamento diretto dei provider vuoi di un rigoroso sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività formative ma ho insistito soprattutto perché fosse a tutti chiaro qual è l'orizzonte vero quello forse oggi ancora un po' lontano degli obiettivi che ci poniamo e che sono questi i nostri perché parliamo di più professioni i nostri sono sistemi professionali che si fondano sulla ricchezza dei saperi e delle competenze saperi e competenze che sono che ogni giorno si consumano e che si consumano rapidamente e quindi abbiamo bisogno di un rigoroso efficace accessibile sistema di formazione come si dice long life lungo tutta la vita oggi ho fatto un piccolo paragone dicendo che un professionista moderno della sanità cammina sugli aspetti diciamo così delle sue competenze su due gambe la prima gliela dà la formazione universitaria pre e post laurea la seconda gliela deve dare sempre più un sistema di formazione lungo tutta la sua vita professionale se una delle due gambe non funziona bene il professionista prima o poi è zoppo se non funzionano tutte e due non si cammina più e questo è quel legame forte tra gli interessi del professionista e gli interessi del sistema e della organizzazione perché poi vanno insieme l'altra questione che è fortemente viene stressata dal convegno di oggi e che è l'aspetto uno degli aspetti innovativi del sistema long life di formazione è che all'interno delle organizzazioni è possibile promuovere sollecitare governare delle vere e proprie attività e comunità di formazione e di apprendimento e quel famoso noto imparare facendo imparare a fare e insegnar facendo ecco perché è imparare ed insegnare che mi sembra sia uno degli aspetti più innovativi e sicuramente più moderni del sistema questo è anche un superamento dalla logica diciamo così con cui era partita la vicenda CM che era quella dei punti da raccogliere per cui c'era questa imposizione con minacce più o meno larvate eccetera eccetera invece mi sembra che il salto di qualità sia evidente cioè si richiede si richiede tra tutti gli attori del servizio sanitario regionale nazionale di farsi appunto parte attiva per qualificare sempre di più la propria professionalità è così o sbaglio? Sì esattamente così nel senso che anche stamattina come dire mi sono permesso di sottolineare come anche la formazione dovesse avere la capacità una formazione ripeto che si rivolge a centinaia di migliaia di persone centinaia di migliaia di persone diverse che hanno esigenze diverse che hanno una serie di bisogni formativi diversi ma hanno anche delle necessità di apprendimento comuni per esempio quella sulla qualità dei processi sull'efficacia dei processi sulla condivisione delle scelte di indirizzo diagnostico terapeutico sulla rigoroso rispetto o comunque sull'adesione a protocolli di trattamento e così via bene però non bisogna mai dimenticare che questo sistema deve poter cogliere i bisogni di quel professionista in questo non c'è ovviamente un individualismo competitore come si dice ma c'è perché così viaggiano i sistemi ricchi di cultura di competenze di conoscenze beh ci sono le curiosità le capacità del singolo che sono diverse da quello di un altro che bisogna intanto sollecitare sviluppare perché poi le possa mettere al servizio di una comunità di pratica e di apprendimento ecco perché ho detto questa mattina che una delle grandi sfide di questo modello long life è quello di partire dalla persona per arrivare al sistema e per ritornare in un circuito virtuoso alla persona perché ritorni al sistema e così via ecco questo è un po' il ragionamento sento l'ultima domanda che si aggancia proprio all'ultima cosa che ha detto allora il fatto che queste figure professionali dai medici agli infermieri di qualsiasi livello i tecnici siano tenuti ad aggiornarsi sempre di più a raffinare e a implementare la propria professionalità li pone in un circuito diciamo così di formazione di studio di riflessione che potrebbe in un certo senso allontanarli sempre di più dai bisogni della gente cioè non dai bisogni nel senso stretto perché si possono monitorare però da un dialogo vero con la gente perché ci deve essere sempre un dialogo tra utenti del servizio sanitario nazionale regionale quando poi questi utenti diventano malati il problema della comunicazione diventa fondamentale perché è anche una valenza terapeutica ecco non trova che questo che forse manchi in questo sistema che di tipo formativo è molto diversificato come offerta dal punto di vista intellettuale se vogliamo manchi però qualche cosa che possa servire ad agganciare le vicende professionali dei singoli operatori presi individualmente o per gruppi insomma con la gente cioè manchi un canale di comunicazione con l'utenza e i malati ma anche perché mi scusi anche perché purtroppo il ruolo svolto dalla stampa non è dei migliori perché si cerca di privilegiare ovviamente le mancanze le carenze eccetera eccetera magari con ecco con una volontà di scoop che a volte non esiste che viene perseguita lo stesso ma io credo che il il sistema di formazione continua di cui stiamo parlando che è in embrione quel modello più compiuto di cui dicevo prima quel modello long life quel modello capace di adeguare costantemente le conoscenze e le competenze dei professionisti alle innovazioni alle innovazioni scientifiche alle innovazioni relazionali alle innovazioni organizzative beh insomma ha al suo interno una mission fondamentale cioè non è estranea alla come dire all'obiettivo fondamentale che è quello di tutto il sistema che è quello di migliorare la qualità delle cure e la qualità delle cure sappiamo tutti dell'assistenza eccetera sappiamo tutti avere diversi determinanti una è sicuramente la qualità tecnico professionale perché vede si possono dire tante buone parole si può avere un'ottima relazione però se non si è capace di mettere in campo una prestazione diciamo assistenziale o di cura all'altezza della buona pratica abbiamo solo preso in giro le persone magari con eleganza però voglio dire non deve per rischio paradossale dall'altra parte quindi è evidente che questa qualità di cui parlavamo è fatta di tante cose quindi qualità tecnico professionale qualità organizzativa certo perché le organizzazioni che non funzionano possono danneggiare le buone pratiche cliniche la rischia di costruire una bellissima torre d'avorio con pareti di vetro dove si vede da fuori si vede tutto ma nessuno capisce niente lo stesso capisce quello che sta succedendo ecco a modo di capire che cosa sta che sta succedendo uno degli altri aspetti della qualità che è fondamentale che non è solo qualità percepita è la capacità di mettere in relazione questo mondo di conoscenze e competenze dei professionisti con il mondo dei bisogni della persona ecco questo è un altro elemento costitutivo la qualità generale che tra l'altro i cittadini le persone avvertono con come dire con maggiore con maggiore forza e che se non opportunamente governato da fattore positivo e propulsivo della qualità rischia di diventare un fattore dirompente destruente il sistema perché o si dà una risposta chiara su questo o si creano quelle contrapposizioni e quei contenziosi dove voglio dire non si va nel medico nel paziente ad una visita ma si scende in trincea con l'elmetto con gli avvocati con i periti e questa è un'altra storia però la sanità ha ben poco da vedere grazie Oscar Bertetto oncologo medico e direttore generale dell'Ares della regione Piemonte le dinamiche della formazione messi a punto dalla regione complicano per voi dell'Ares lo scenario delle cose da fare o in un certo senso lo possono semplificare? Ma noi in realtà svolgiamo il nostro compito di ente di supporto per l'assessorato per cui quello che l'assessorato in qualche modo programma noi dobbiamo cercare di realizzarlo e realizzarlo nella quotidianità per cui è chiaro che abbiamo dovuto mettere a punto una piattaforma ECM con cui poter dare a tutti gli operatori della regione Piemonte il punteggio ECM in base ai corsi di formazione che vengono a seguire e nel momento in cui si sceglie di sviluppare anche la formazione a distanza la formazione sul campo le comunità di pratica dobbiamo mettere a punto sistemi che sappiano leggere questi momenti formativi sappiano attribuire il giusto punteggio ECM e sappiano poi distribuirlo a tutti gli operatori che vi hanno partecipato e quindi è chiaro che dobbiamo fare uno sforzo dal punto di vista della riconversione informatica delle nostre piattaforme che svolgiamo però quotidianamente e quindi diciamo che questo è il compito maggiore di queste scelte che vengono svolte a livello regionale se fossimo in America la vostra struttura sarebbe catalogata come un think tank come un centro di menti pensanti che elaborano strategie conoscenze che poi devono avere una flessibilità di tipo politico e burocratico amministrativo ecco dal suo punto di vista proprio dal punto di vista di un intellettuale che svolge questo lavoro di riflessione e di ricerca quali sono i nodi in Italia in Piemonte della formazione medico-sanitaria più importanti da risolvere a suo avviso ma innanzitutto va detto che una delle caratteristiche con cui lavora l'agenzia è di non lavorare isolatamente ma proprio facendo dei periodici brainstorm tra tutti i collaboratori che abbiamo e quindi diciamo che la mia non è una valutazione personale ma è una valutazione fatta con molti professionisti della regione Piemonte semmai il mio sforzo è quello di collegare professionisti che lavorano su tavoli diversi all'interno dell'agenzia per aggregare tra di loro i vari momenti direi che forse i punti principali sono la difficoltà del passaggio da una formazione intesa in senso tradizionale quindi una formazione in qualche modo d'aula più o meno raffinata nelle sue modalità didattiche a questi nuovi modelli formativi che in qualche modo coinvolgono molti di più anche degli aspetti di carattere organizzativo e relazionale credo che sia la quotidianità della professione perché noi interferiscono ma sono un momento delle cose da fare quotidianamente dal punto di vista professionale Sì noi abbiamo cercato di coinvolgere molto anche le aziende a livello direzionale perché secondo me se la formazione entra come uno dei compiti che l'azienda deve avere in qualche modo deve anche dal punto di vista della propria riorganizzazione del lavoro consentire che i professionisti abbiano poi i giusti spazi per potersi formare altrimenti rischiamo che lo debbano fare a scapito delle ore di riposo a cui avrebbero diritto o a scapito di momenti assistenziali che sarebbe sbagliato se riducessero di durate di intensità perché è da dedicarsi alla formazione questo presuppone naturalmente un modello che in qualche modo sappia individuare anche la quantità di tempo da dedicare ai momenti formativi all'interno del processo organizzativo sia per quanto riguarda i medici e gli operatori sanitari dipendenti dalle aziende e sia per quanto riguarda i medici di famiglia e i pediatri convenzionati invece con le aziende in entrambi i casi noi dobbiamo trovare dei modelli che consentano il giusto equilibrio tra la formazione e il momento assistenziale c'è il passaggio da una cultura libresca del passato cioè accademica con valutazioni a volte è così nemmeno poi tanto legate a un metodo ma una valutazione estemporale anche se di tipo molto affidabile perché la professionalità dei docenti era quella che era e tutti la conosciamo si passa a una valutazione di tipo diverso più dinamico più attivo più interattivo anche ma io credo che si debbano coniugare tutte le modalità di formazione uno degli errori che qualche volta viene fatto è che il nuovo debba soppiantare il vecchio credo che sia un errore io penso che ci debba essere un sviluppo per cui il nuovo deve innestarsi sulle vecchie metodologie devono integrarsi tra di loro per cui non è che avere la possibilità di una formazione per via informatica a distanza debba soppiantare la formazione in aula non è che la formazione didattica a piccoli gruppi debba superare necessariamente i momenti congressuali non è che la formazione sul campo possa sostituire to cure tutti gli altri momenti formativi anche perché credo che le tre componenti della formazione quella diciamo individuale tecnico-professionale quella di carattere organizzativa e quella che va invece a vedere le varie sfaccettature che una corretta qualità delle prestazioni vengono ad avere devono coniugarsi tra di loro e per ciascuna di queste probabilmente occorre una modalità diversa dal punto di vista didattico grazie grazie siamo qui con il dottor Mario Nerotti per chiedergli quali sono i punti di forza del sistema di formazione regionale Piemonte i punti di forza del sistema credo che stiano essenzialmente nel fatto di avere messo insieme diverse comunità di pratica tanto per rimanere nel tema di questa giornata ma perché questo perché da un lato c'è il sistema regionale con tutta la sua complessità con le necessità di un sistema dall'altro c'è un insieme di professionisti della salute che hanno delle necessità di formazione molto particolari e molto importanti per evitare gli evidenti difetti di questo di questo sistema quindi un eccessivo particolarismo da parte dei professionisti o una eccessiva accentrazione ai bisogni soprattutto economici spesso del sistema sanitario si è voluto creare una chiamiamola camera di decompressione cioè la conferenza regionale sulla formazione continua e il luogo in cui le esigenze di questi due sistemi uno professionale e l'altro pubblico vengono in incontro e in scontro per raggiungere una linea operativa importante altro punto di forza è quello di avere fatto una separazione netta tra la parte programmatoria politica di individuazione degli obiettivi e la parte tecnico operativa e propositiva per quello che riguarda il sistema formativo in sé uno è l'assessorato con la conferenza regionale sulla formazione l'altro è l'agenzia che ha espresso la commissione ECM commissione ECM che poi viene supportata dal sistema dell'agenzia e dai gruppi di lavoro dell'agenzia ecco da così da coordinatore insomma della uno dei coordinatori della conferenza vedo con estremo favore questo integrarsi di questi due sistemi politico e operativo che ovviamente hanno avuto un inizio faticoso come tutti i sistemi complessi ma adesso ha trovato un meccanismo ogliato che serve a valutare gli eventi formativi soprattutto i provider per adesso pubblici e che poi diventeranno provider a cui si aggiungeranno poi provider privati e quindi a valutare la qualità dei provider e direi che lo sforzo più grosso che tutti insieme stiamo cercando di fare è di valutare l'impatto del sistema formativo sulla qualità delle prestazioni che poi è il cuore del successo o dell'insuccesso che può avere un sistema di formazione la valutazione è stata sempre la cenerentola di tutti i sistemi formativi la valutazione del processo la valutazione degli esiti la valutazione del cambiamento dell'attività dei professionisti la valutazione del miglioramento del sistema nel suo insieme in questo sistema si cerca di spendersi spendere energie per riuscire a mettere insieme questo sistema valutativo quindi questi sono sicuramente i punti di forza più rilevanti e più importanti di questo sistema la regione Piemonte ha investito molto su questo sistema formativo alcune decine di milioni di euro quindi l'investimento è cospicuo non è escluso che in un futuro abbastanza prossimo si dovrà gestire l'intervento del capitale privato un capitale privato che sicuramente è sempre presente nella formazione tradizionalmente presente nella formazione e che è inutile nasconderselo desta delle preoccupazioni se non voglio dire certamente non dei tabù o dei fantasmi ma desta delle preoccupazioni per la libertà e la congruità dei contenuti che poi vanno a fare la salute dei cittadini in termini anche di generazione dei bisogni che bisogni vengono generati nei cittadini un esempio che può essere chiaro il bisogno su cui adesso non entro nel merito se giustificato o ingiustificato ma comunque il bisogno di vaccinare la popolazione per l'influenza ha generato da una pressione congiunta dei media dei governi e delle aziende ha generato nei cittadini la necessità di farsi vaccinare è un bisogno vero è un bisogno falso lo vedremo poi con gli studi scientifici che seguiranno all'epidemia di questo di questo inverno ma questo per dire che l'attività industriale che deve raggiungere la sua mission che è una sola vendere il numero la quantità maggiore del prodotto che produce e la mission invece dei sanitari che è quella di fare salute fare sanità e pensare al bene dei cittadini è un piano su cui bisogna trovare un dibattito l'idea fondamentale della regione Piemonte è quella di creare un fondo etico dove il capitale privato perde personalizzazione per così dire ma non perde valore d'immagine non perde valore d'immagine che è quello che interessa evidentemente a una produzione una sana produzione industriale e commerciale e quindi su questo stiamo discutendo abbiamo già avuto contatti l'assessorato ha già avuto contatti con la farmindustria siamo in una fase ancora interlocutoria per misurare il metro il termometro dell'interesse ma credo che questa sia un'idea che può essere un'idea vincente per il futuro ancora una domanda uno dei concetti centrali di oggi è il concetto di comunità che cosa vuol dire praticamente questa parola ma una comunità di pratica se poi usciamo dai tecnicismi insomma è l'insieme di professionisti che si riconoscono in una serie di attività di pratiche di mansioni di cultura di pensiero di storia culturale le comunità di pratica all'interno del comparto sanitario quindi voglio dire di tutti i professionisti di tutti i professionisti sanitari sono molte alcune sono ben costruite pensiamo alle comunità di pratica degli specialisti è immediatamente riconoscibile la comunità di pratica dei cardiologi perché hanno un processo culturale che parte lontano nel tempo perché hanno una scuola di specializzazione che li caratterizza perché hanno mansioni in ambito specialistico e attività e linee guida che li disegna nel contesto sono subito riconoscibili le comunità di pratica invece per esempio della medicina generale è più sfumata è in costruzione con le nuove forme aggregative della medicina generale sicuramente potremmo avere una facilità maggiore a definire queste comunità di pratica ma la comunità di pratica non deve essere una struttura che si costruisce intorno il suo profilo per non entrare in contatto con gli altri ma sono proprio la riconoscibilità dei profili professionali e delle specificità di ciascuna mansione all'interno del sistema sanitario che permette di mettere in contatto una comunità di pratica con l'altra in maniera decisamente efficiente e permette di costruire tutto il castello di formazione che sta dietro alle attività e dall'altro lato permette alla comunità di pratica stessa di produrre formazione perché non c'è più distinzione che già è in crisi da molti anni ma non c'è più distinzione tra un sapere accademico e un sapere pratico è tutta formazione una interpretata in modo più contenutistico l'altra che nasce dal pratico che vanno al miglioramento dell'attività del professionista i risultati attesi di questa rivoluzione culturale come è ricaduta sull'attività pratica diciamo che io mi attendo di più una ricaduta sulla salute della popolazione perché se all'interno del sistema le comunità sono molto più riconoscibili lo sono anche all'esterno per cui i cittadini sanno che cosa sta dietro il sistema diventa più trasparente i cittadini sanno che una comunità di pratica composta faccio un esempio una comunità di pratica di cure primarie che è composta da più comunità di pratica lo specialista territoriale gli infermieri gli amministrativi i medici di famiglia i pediatri di libera scelta sono estremamente riconoscibili come faro che serve a guidare il cittadino all'interno del sistema ed è questo che ci attendiamo una cultura che dia autorevolezza agli operatori e trasparenza e appoggio ai cittadini grazie dottor guido giustetto medico di famiglia e vicepresidente dell'ordine dei medici odontoiatri della provincia di torino lei sta per partecipare a un seminario parallelo qui all'interno del convegno che si intitola la comunità di pratica dei professionisti del territorio allora le volevo domandare le comunità di pratica dei professionisti del territorio quale tipo di formazione devono ricevere direi che l'aspetto principale della formazione inerente alle comunità di pratica è una formazione sul campo o meglio direi questo le comunità di pratica sono esse stesse un momento in cui si fa della formazione lavorando la caratteristica della formazione nelle comunità di pratica è il mettere insieme le competenze che si hanno discuterle individuare i punti critici individuare delle procedure adatte ai problemi che ci sono condividerle metterle in pratica per l'appunto e poi sottoporle a valutazione questo in maniera direi comunitaria ovviamente ci sarà qualcuno che guida il processo ma tutti hanno la stessa dignità di insegnante di allievo se vogliamo usare due termini presi dall'ambito della formazione ma questo non è un po' un percorso che corre il rischio di essere autoreferenziale perché se non c'è una terza figura una figura terza che mette in luce della criticità o dei difetti o dei buchi come si fa? si fa che esiste la figura terza ma più che una persona o un'istituzione sono per esempio delle linee guida delle procedure preparate da gruppi di lavoro esterni ai quali si fa riferimento è un po' il ragionamento che si fa quando si parla di audit clinico e cioè descrivere la propria pratica per quella che è ma confrontarla con un punto di riferimento che abbia una valorizzazione non autoreferenziale per l'appunto quindi una linea guida nazionale una linea guida addirittura internazionale come sono quelle non so io faccio l'esempio del trattamento dell'ipercolesterolemia il trattamento del rischio cardiovascolare e via di questo passo il diabete ma anche per temi molto più comuni come non so la lombalgia o come curiamo l'osteoporosi e via di questo passo se c'è da criticare queste linee guida perché a volte non è che siano voglia di essere c'è una teologia addirittura che si permette di criticare i dieci comandamenti per cui le linee guida sono dei punti ho detto prima sono dei punti di riferimento quindi la prima cosa che è necessario fare in questi momenti formativi è cercare di capire quanto le linee guida sono applicabili al contesto in cui si lavora concretamente non sempre questo avviene e poi tenere conto anche non solo dell'applicabilità stretta al contesto ma del coinvolgimento dei pazienti e delle risorse che richiedono di essere messe in campo e questo è un altro problema molto grosso che certe volte ci blocca ma questo non cambia la profondità e l'importanza del lavoro sulla propria attività e invece dal punto di vista di offerta formativa è possibile che queste nuove entità in cui si articola il lavoro medico-sanitario possono avere anche un ruolo di tipo fornovativo ci riferiamo ai gruppi di cure primarie alle comunità ma le comunità di pratica non sono dei nuovi gruppi cioè la comunità di pratica è un modo di lavorare di professionisti che confrontano le loro pratiche per renderle omogenee per renderle migliori e quindi è una forma la formazione cosa serve? La formazione serve a migliorare la propria attività per renderla più adatta alla domanda dell'utente Già l'esistenza di un soggetto di questo tipo con questi compiti presuppone che ci sia un ambito formativo insomma perché si muove in questo contesto ma può essere anche questo nuovo modo di questo nuovo approccio di lavorare può anche essere fonte di un'offerta formativa che si può realizzare in qualche modo? Beh non so se possa diventare una fonte di offerta formativa come dire formalizzata è l'offerta formativa che nasce nel momento in cui si lavora e si crea un problema dicevo prima la formazione serve per migliorare la prestazione la performance e dare una risposta più adeguata al bisogno del cittadino allora poi come avvenga questa formazione non è particolarmente importante è importante che sia efficiente cioè che avvenga migliorando la performance con il miglior tempo il miglior energia il minore investimento speso quindi se la comunità di pratica come io credo ci offre questo è già essa stessa un momento di formazione il rapporto tra comunità di pratiche e università esiste è da inventare beh è è auspicabile inventarlo no io ho solo in mente un esempio che è il nostro esempio del gruppo dei tutori universitari che quando ci fu affidato come ordine dei medici nel anno accademico credo fosse il 2002 2003 ci fu affidato l'incarico di ideare ed organizzare il tirocinio professionalizzante in medicina generale da parte dell'università che con molta lungimiranza l'università di Torino riconobbe di non avere all'interno delle competenze perché era un campo completamente avulso dalla loro alta professionalità quando ci fu dato quell'incarico di fatto senza saperlo e senza avere una teoria alle spalle di fatto costituì una comunità di pratica che riunì prima un piccolo gruppo di medici a cui l'ordine affidò l'incarico di organizzare in concreto ideare il programma e successivamente dai quattro medici iniziali allargammo il discorso a una ventina di medici e oggi i tutori universitari sono 72 tutori universitari medici di famiglia coordinati dall'ordine in una vera comunità di pratica perché per esempio per una delle due dei due settori in cui è organizzato il tirocinio professionalizzante che è quello la parte teorica quella dei seminari in quella parte tutti i colleghi hanno dato il loro contributo ridiscutendo la loro attività e il modo in cui svolgevano per tirare fuori estrarre l'essenziale e costruire una conoscenza organizzata in maniera tale che fosse trasferibile in questo caso agli studenti universitari del sesto anno io credo che quello sia un buon esempio di comunità di pratica quasi una comunità di pratica di insegnamento questa è una cosa molto importante perché potrebbe aiutare l'università soprattutto quella italiana intendo ad abbandonare definitivamente questo tono paludato questo tono un po' saccente un po' da torre d'avorio e calarla in realtà in percorsi più dinamici più aderenti alle esigenze che della formazione è vera quella che poi serve fin dall'inizio abbiamo abbiamo optato per questo modello escludendo l'idea che si formasse un piccolo numero di professorini abbiamo deciso che non avrebbe risposto alle esigenze che c'erano anche perché un tirocinio professionalizzante prevede un numero elevato di studenti che girino negli studi quindi c'era bisogno di un numero elevato di tutori e non ci sembrava logico che ci fosse una gerarchia al nascere dell'attività tra chi era in grado di fare una cosa e chi poteva farne solo un'altra siete comportati con atteggiamento anti-accademico non so anti-accademico non so direi non competitivo e di condivisione del sapere e questa esperienza a distanza di anni come può essere commentata da parte nostra in maniera molto molto positiva perché ci ha dato una grandissima soddisfazione e credo anche da parte dell'università perché ogni anno ha rinnovato e quest'anno di nuovo nonostante l'università non trovasse più i fondi per i tagli non per volontà dell'università di Torino i tagli ministerializionali e siamo riusciti attraverso i fondi della regione a far ripartire anche quest'anno l'iniziativa con grande entusiasmo credo che soprattutto gli studenti siano stati molto contenti perché arrivano al sesto anno senza aver nessuna idea di che cos'è la medicina generale credono tutti di andare a fare un'attività ospedaliera e in realtà più della metà fare un'attività sul territorio e questo crea se non c'è una preparazione prima una serie di contraddizioni tra l'attesa di un lavoro e quello che puoi fare davvero e noi abbiamo visto sottoponendo agli studenti un questionario che mentre all'inizio oltre il 50% degli studenti aveva una visione diciamo negativa della medicina di famiglia di disinteresse o un giudizio che non era positivo alla fine il 90% degli studenti dava un giudizio di notevole interesse non solo ma alcuni studenti hanno poi deciso di scegliere vocazionalmente di fare la carriera della medicina di famiglia quindi soddisfazione enorme quindi la regione Piemonte si è sostituita all'università per mantenere viva questo tipo di esperienza in cui crede in cui punta in cui in cui la regione Piemonte è sicuramente interessata istituzionalmente è vero non è interessata all'insegnamento universitario istituzionalmente però è interessata al fatto che i professionisti che escono dall'università rispondano ai bisogni dei cittadini del Piemonte dei cittadini dell'Italia naturalmente ma in particolare del Piemonte e quindi anche questo è un altro aspetto di lungimiranza delle nostre istituzioni direi che siamo in una situazione in cui si può lavorare molto bene e quindi adesso nel seminario che sta per iniziare voi parlerete esattamente di questo uno dei temi sarà questo un altro tema sarà invece sui gruppi di cure primarie più in dettaglio di come abbiamo appena accennato adesso e poi gli altri temi saranno invece su due interessanti esperienze di comunità di pratica virtuali ci spiega un po' a livello pediatrico il dottor Fiammengo ci illustrerà una loro rete di formazione virtuale attraverso casi clinici discussi e approfonditi vuol dire virtuale virtuale nel senso che questi colleghi hanno costituito dei gruppi di lavoro che si vedono attraverso la rete ho capito uno prepara un caso clinico e poi tutti possono formulare delle considerazioni inviare delle osservazioni e il dottor Belleri invece ci racconterà come nell'AS di Brescia è stato impostato anche qui un programma basato principalmente sulla rete per migliorare le prestazioni nei confronti dei pazienti diabetici e a rischio cardiovascolare senta come si fa un'ultima domanda lo faccio anche come vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Torino oltre che come vi dico di famiglia cioè noi in tutti i convegni eccetera eccetera si parla di una realtà sanitaria pubblica che è di assoluta eccellenza anche dal punto di vista intellettuale voglio dire come è quello che ho appena detto perché allora secondo lei la gente ha questo intervistato a questo scarso questa scarsa considerazione del servizio sanitario nazionale tutto sommato io credo che la scarsa considerazione derivi da due fattori uno che comunque c'è da parte della gente un'attesa per la propria salute che è come dire pompata passiamo questo termine da tutta una serie di informazioni che non sono realistiche cioè penso che spesso la gente inconsciamente creda che si possa non più morire estremizzo e allora naturalmente rispetto a delle attese molto forti noi comunque siamo umani e la morte non la possiamo escludere fa parte della nostra esperienza fa parte della nostra esperienza e invece si tende a volerlo dimenticare questo è un po' estremizzato ma innuce questo che voglio dire la seconda cosa è che credo che il principale come dire inconveniente che trovano le persone che trovano i cittadini siano nei rapporti con l'organizzazione cioè con una mancanza di fluidità tra tutti i passaggi spesso le persone che occupano le posizioni con le quali i pazienti i cittadini vengono incontro sono persone che non hanno ricevuto una formazione sufficiente e non è la stessa cosa essere anche solo a un banco di accettazione di un ospedale di un ASL di un servizio di prenotazioni che riguardi dei problemi medici che essere allo stesso banco se parliamo delle poste con nulla togliere le poste anche le poste di un saggentino ma il problema che ha dentro la persona che porta è completamente diverso andare a prenotare una risonanza perché c'è la paura di avere qualcosa o andare a fare una raccomandata non è la stessa cosa diciamo che i biglietti da visita che sono le prime cose che uno vede non sono adeguati alla qualità dell'azienda credo questo e poi credo anche che proprio la relazione che si crea tra tutti i settori e i segmenti del servizio sanitario sia uno di quegli aspetti su cui si dovrebbe investire molto e lavorare molto e la formazione in questo senso può giocare un ruolo? può giocare un ruolo enorme proprio perché noi anche questa mattina l'abbiamo detto la formazione non può essere un asse che va avanti per conto suo e dimentico e isolato come se lì dovessimo fare tutto bene tutto bello e il resto no allora c'è la formazione ma poi dopo ci sono gli aspetti organizzativi che vanno migliorati nel servizio sanitario ci sono tutti gli aspetti della sicurezza degli interventi sanitari i problemi della valutazione della tecnologia quindi valutazione di efficacia ma anche di appropriatezza sono tutte cose che debbono andare insieme sicuramente l'aspetto dell'organizzazione e della risposta al cittadino è un aspetto fondamentale i gruppi di cure primarie in questo cercano già di rispondere perché se il medico di famiglia riesce ad assumere un maggior impegno e un maggior controllo sulle problematiche del cittadino gli può prefigurare meglio la via la strada che deve poi percorrere nel secondo livello e quindi in questo caso lo può aiutare maggiormente che era praticamente il ruolo istituzionale previsto sulla carta da anni per il medico di famiglia è il nostro ruolo dobbiamo combattere un po' per poterlo eseguire davvero grazie prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti